A Paganica, che è la frazione più popolosa dell'Aquila, il PD alza la voce sulla situazione delle scuole, produce tramite il gruppo consigliare un'interrogazione raccogliendo le sollecitazioni della segretaria del circolo PD di Paganica e frazioni, Deborah Palmerini. Da luglio la tenso struttura della scuola media per la palestra, collassata in parte, ancora non è stata riparata nonostante la pubblicazione della determina di affidamento, ma questo è solo un episodio che spinge ad interrogarsi sulla sicurezza di tutti i MUSP. Noi interroghiamo il Comune su questo, perché ovviamente queste strutture che all'atto della posa in opera erano garantite per cinque anni, non lo diciamo noi, lo dicevano i progettisti e che dovranno durare ancora per molto, necessitano necessariamente, e l'episodio di Paganica lo dimostra, necessitano necessariamente di una manutenzione straordinaria strutturale. Quindi noi vogliamo sapere a questo punto quale siano questi interventi, con quale frequenza e con quale impegno di spesa. Inoltre c'è il discorso del progetto di ricostruzione del polo scolastico unico, progetto bello ma impattante che il PD pretende sia condiviso con la popolazione locale, oltre a voler conoscere i tempi di realizzazione.